Il secondo talk è l'ultimo blocco dell'ESC 2023, giornata del sabato qui a Sanonà di Piave e in questo talk parleremo di DirectX, quindi molti di noi lo conoscono diciamo per la sua fama o famigeratezza, poi insomma decideremo per quali motivi e il relatore lo conoscete perché da qualche anno, in realtà dall'anno scorso ha fatto anche un talk e quindi lo conoscete anche come relatore dell'ESC ed è Cristian, detto anche Arves e quindi gli passo la parola così lui si presenta e presenta anche questo talk, un grande applauso. Buonasera a tutti, io sono Cristian, conosciuto anche tanti nomi tra cui Arves questo, diciamo parto con una piccola introduzione per spiegarvi quello che ho fatto oggi in questo nei miei ultimi mesi, io sono uno studente, anche uno sviluppatore che ha imparato un po' da solo un po' improvvisato reverse engineering, mi piace un po' andare, studiare e capire il funzionamento di le applicazioni, tra cui appunto mi è parsa una specie di curiosità, un dubbio ma sappiamo tutti che Wine implementa DirectX e già ora possiamo usare Wine per girare applicazioni di DirectX ma effettivamente Windows come implementa questa funzionalità? Prima di tutto vorrei partire con un attimo una mini introduzione di DirectX che cosa effettivamente è DirectX? DirectX è un set di componenti, quindi non un singolo componente come si potrebbe andare a credere che svolge un diciamo funzionalità a 360 gradi per poter gestire un videogioco completamente dalla parte audio, la parte video, anche la parte degli input come la tastiera il componente di cui mi vado a focalizzare oggi è DirectX 3D che è il componente per la renderizzazione grafica tridimensionale quella che su Linux è OpenGL o Vulkan Prima di partire con questo slide che vedete qui parto con, diciamo, c'è stato un grande cambiamento di Windows da Windows Vista in poi, per questo il talk parla anche di Windows Vista semplicemente perché dalle nuove versioni di DirectX, quindi DirectX 10 hanno cambiato più o meno tutto quanto quindi facciamo uno step, o almeno cerchiamo di fare uno step indietro nel cercare di capire come funzionava lo stack video di Windows prima dell'introduzione di DirectX 10 Ora, una delle prime cose che vorrei fare, appunto, è che Windows gira l'interfaccia grafica nel kernel quindi possiamo immaginarci come un X11 situato all'interno del kernel quindi ipoteticamente, come è stato dimostrato molte volte se c'è una superficie di attacco di questa parte di X11 nel kernel ovviamente hai quasi preso controllo completo di tutta la macchina nello specifico qui si parla della parte di gestione del video non andiamo a concentrarci magari in come va a renderizzare come il sottosistema Windows, Win32K, che è questo Relative X11, è collegato abbiamo, prima di tutto, un display driver che è il componente che consente di fare accelerazione tridimensionale come, ad esempio, disegnare un cubo questo è gestito da un driver creato dal produttore della scheda grafica come Nvidia o AMD e un secondo driver chiamato Miniport che è un piccolissimo driver che gestisce principalmente il lato proprio primitivo dello schermo come può essere, ad esempio, cambiare, presentare i cambiamenti su schermo le varie risoluzioni del monitor e così via tutto questo è collegato assieme attraverso il sottosistema di Windows da Windows Vista, invece, hanno cambiato più o meno tutto quanto prima di tutto, infatti, lo schema è un po' diverso si può vedere nella parte del kernel che Win32K è rimasto, giustamente, per tutte le applicazioni legacy di cui anche il suo corrispettivo nella zona utente GDI che è quello che noi applicazioni utilizziamo per poi disegnare nello schermo c'è un componente principale chiamato il DirectX Graphics Kernel Subsystem che potete vedere qui in DXG Kernel che gestisce più o meno tutto quello relativo alla scheda grafica fa un po' come se avessero spaccato in due l'implementazione di XP e avessero spostato tutta la parte di gestione delle schede grafiche all'interno di un modulo separato abbiamo sempre il mini port che gira nel kernel che più o meno offre le stesse funzioni il grande cambiamento è apparso nella zona degli utenti quindi dove girano le applicazioni di tutti i giorni con l'introduzione di una runtime di DirectX più strutturata che andremmo ad approfondire nel corso di questo talk un driver, il display driver precedentemente citato che girava nel kernel per poter far funzionare ad esempio il disegno di un cubo o di una texture è stato spostato totalmente nella parte user land quindi abbiamo un enorme guadagno se per qualche motivo una nostra applicazione manda qualche comando malformato per far crashare il render della nostra scheda grafica il sistema operativo non crasherà ma Windows ha poi attraverso DXG kernel la possibilità di rimettere a posto tutto il video quasi come se non fosse successo niente solitamente appare un'iconcina di errore per comparazione per vedere invece come dalla parte open source qui abbiamo lo stack video di Linux ovviamente piccola premessa grande la parte del Win32K quindi del sottosistema grafico che disegna le finestre è ovviamente totalmente nella parte utente come si può vedere con Wayland o X11 quindi almeno di questo abbiamo una superficie di attacco di meno su Linux ma la struttura di Linux è molto simile all'ultima struttura di Windows Vista precedentemente citata infatti su Linux abbiamo un componente chiamato DRM che fa un po' quello che fa il componente di DirectX nel kernel gestisce un po' tutta la scheda grafica di cui abbiamo la possibilità di comunicarci in userland o attraverso MESA un'implementazione open source della parte utente come di OpenGL oppure attraverso esempio lo stack proprietario di NVIDIA per quelli sfortunati che hanno NVIDIA all'interno di MESA in realtà c'è una divisione proprio nel codice tra la parte lato driver utente quello citato prima del display driver implementato dai creatori delle schede grafiche e da proprio la runtime di OpenGL quindi si può dire che qua la parte userland è molto molto simile fatta quasi un po' l'eccezione di X11 i componenti di cui andrò a trattare in questo talk che sono un po' frutto delle mie ricerche nella parte interna sono due le runtime specifiche di DirectX come DirectX 10, DirectX 11 che servono per effettivamente mandare comande alla scheda grafica per poter disegnare un cubo o magari una texture o proprio un mondo intero di gioco e un componente un po' più interno che serve come base per tutto il resto chiamato DirectX Graphics Infrastructure o DXGI questo componente che andremo a approfondire in seguito imposta le fondamenta a basso livello per poter gestire un po' tutto l'infrastruttura di DirectX come si può vedere nel diagramma non sembra così complicato per ora ma andiamo a vedere un ultimo pezzettino prima di poter capire bene per spiegare un attimino come fanno tutti questi componenti a parlare assieme tra cui in particolare le runtime di DirectX e di DXDI questo viene fatto con una tecnologia di Windows chiamata COM questa tecnologia consente brevemente di consentire a più librerie ad esempio DXGI di poter comunicare con un'altra libreria o un altro componente che può essere la runtime di DirectX il di DirectX scusatemi semplicemente questo componente agisce su Linux di bus ha praticamente la stessa identica funzionalità per chi ha un po' più di dimestichezza su Linux come effettivamente funziona poi tutto quanto questo è uno schema fatto da me di cui fa vedere realmente come funziona il collegamento delle varie condipendenze di DirectX abbiamo nella parte più in alto l'applicazione quella che poi andrà a disegnare su schermo che magari richiede a DirectX 10 o DirectX 11 come un dispositivo un accesso per poter disegnare un cubo su schermo che poi andrà a comunicare con il driver specifico del produttore della scheda grafica per mandare questi comandi alla scheda grafica DXGI che fa un po' da tramite che offre alcune cose di basso livello GDI 32 citato precedentemente che era facente parte dello stack di Windows XP per poter un po' disegnare e gestire le finestre qui torna in realtà perché viene collegato diciamo come specie di salto per poter arrivare poi ad XG kernel quindi la parte effettiva nel kernel lo schema di Microsoft alla fine è molto simile seppur che tutto in realtà è collegato allo stack video precedente di Windows XP Microsoft non ha mai davvero ricambiato tutto quanto ha semplicemente aggiunto DirectX mi piace dire con la colla stick assieme al resto delle nuove funzionalità infatti il sistema precedente dove si poteva disegnare le finestre GDI32 espone tutte le funzionalità ecco abbiamo GDI32 quindi il componente precedente di Windows XP per disegnare le finestre che in realtà espone tutto il funzionamento del del nuovo sistema per parlare con la scheda grafica ognuna di queste funzioni è prefissata con D3DKMT e sono rese disponibili a noi attraverso GDI32 che andrà poi a comunicare col sottosistema di Windows per poi arrivare effettivamente alla runtime nuova di DirectX quindi è quasi tutto in realtà un mescolamento c'è un attimo un problema di fondo che mi rendo conto solo adesso perché mi sono organizzato molto bene per questi slide e niente lasciamo perdere ci arrangeremo passiamo adesso effettivamente all'implementazione dei componenti di proprio quelli effettivi delle runtime di DirectX che sono appunto divisi in due di XGI e le runtime di Direct3D il primo è di XGI come citato precedentemente crea un po' le fondamenta il basso livello per andare a costruire le runtime di DirectX al suo interno è contenuto una classe madre un componente madre chiamato Factory di cui è sullo scopo di creare tutti i componenti che andremo effettivamente ad usare nella nostra applicazione di cui abbiamo l'adapter che è la rappresentazione di una scheda grafica ovviamente ne possiamo avere più di uno nel sistema operativo e un output che rappresenta un monitor e ovviamente varie strutture interne che non ho fatto nel diagramma perché alla fine non sono altro che estensioni ad esempio dell'adapter o dell'output e la swap chain che è un componente che andrò a citare dopo che serve per far vedere davvero i cambiamenti nello schermo questo è un piccolo schema che spiega come sono collegati i adattatori con gli output anche in relazione alle finestre come si può vedere il computer rappresentato nello schermo può avere uno o più schede grafiche collegate i quali possono avere uno o più monitor collegati e possono avere più finestre presenti nello schermo anche magari finestre tra vario schermo tutte queste casistiche incluse anche le casistiche di monitor remoti o schermi remoti sono tutte gestite da DXGI senza infatti questo componente non possiamo accedere a il resto della funzionalità questo è un codice esempio che è scritto da me derivato con queste settimane di studi che serve a denumerare quindi vedere tutte le schede grafiche presenti all'interno del nostro computer qui c'è qualcosa che magari qualcuno può già aver notato all'occhio quando ho citato prima il discorso del collegamento con le vecchie API di GDI32 non so se qualcuno qua è familiare con le API di Windows e ad esempio conosce la chiamata in un display devices no penso di essere quasi l'unico qua è importante capire qua in questo spezzezino di codice di come Microsoft ci ha costruito in realtà una grande bugia perché hanno detto che lo stack di video di Windows Vista è totalmente separato dai componenti precedenti nella realtà per vedere tutti i monitor collegati usiamo la chiamata di Windows XP che poi è stata appositamente incollata con una chiamata quella sotto di 3DKMT Open Adapter from GDA Display Name per poter accedere alla scheda grafica di Windows 7 partendo dal dispositivo presente su Windows XP il componente adesso cambio un attimo tematica spiegando questo componente un po' problematico che mi ha dato in realtà non pochi problemi di cui un concetto molto semplice presente anche su Linux questa parte è gestita in realtà da X11 non so se qualcuno a me ha usato Xlib per fare interfacce su Linux questo componente è la swap chain che è un componente molto semplice il suo unico scopo è di mantenere più schermi all'interno della memoria e poi scambiarli nello schermo ad esempio ci possono essere due o tre schermi virtuali dove DirectX disegna all'interno di questi schermi virtuali e nel determinato momento in cui vogliamo far vedere i cambiamenti nello schermo uno di questi schermi virtuali vengono spostati quasi come una catena di montaggio fino ad arrivare allo schermo effettivo che vediamo nel monitor perché una cosa del genere cioè in realtà anche in quasi tutti i videogiochi o anche console di gioco serve per evitare cose come del tearing oppure quella quella specie di momento in cui mentre magari DirectX sta disegnando sullo schermo viene fatto tutto in real time aggiornato lo schermo in real time e vediamo magari la finestra divisa in due parti il contenuto della finestra con una parte del frame precedente una parte del frame successivo diciamo che non diventa poi molto comprensibile tutta la situazione per questo si è andato con un sistema del genere su Windows per quanto sembra un concetto semplice su Windows ne abbiamo molti tipi questi sono che vedete sono i tipi che ho attualmente studiato o che almeno so dell'esistenza ce ne potrebbero essere altri perché Windows è un sistema operativo come tutti sempre in evoluzione quindi magari da DirectX 12 o da Windows 11 hanno aggiunto un pezzettino nuovo che ancora non conosco siamo su un territorio abbastanza inesplorato il primo è la swap chain a schermo intero aggiorna tutto pulisci tutto quello che c'è nel nostro monitor e presenta i nostri cambiamenti su schermo denominata anche da me DVM perché è quella utilizzata dal compositor di Windows che giusto due paroline che poi quello che fa magari Kwin su Linux in realtà è un'applicazione di DirectX che poi presenta i cambiamenti su schermo la swap chain DDA che questa è già una swap chain che attualmente non ho studiato ma so dell'esistenza perché ne ho avuto di referenza questa swap chain sembra essere correlata con la swap chain del compositor di Windows ma ancora questa è tutta speculazione ancora la swap chain per le finestre le applicazioni a finestra classica come può essere come una normalissima applicazione anche più di un'applicazione lo stesso swap chain viene utilizzata ovviamente questa swap chain tiene conto sia dei cambiamenti o comunque di una finestra col compositor attivo sia del compositor disattivo in quando questi due metodi sono totalmente diversi un'altra swap chain chiamata all'interno di Microsoft partner nelle strutture di DXGI serve per Direct Composition che è sostanzialmente un render offline o comunque scollegato da un monitor per poter presentare cambiamenti ad esempio su una bitmap può essere usato magari per accelerazioni grafiche dove ci serve disegnare qualcosa su una bitmap l'ultima swap chain che ne ho riconosciuto l'esistenza è denominata XAML e serve per il nuovo metodo di applicazioni introdotte su Windows quindi l'UVP o anche le applicazioni di Windows 8.1 il secondo componente di cui vado a parlare sono le runtime di DirectX qui nello specifico vedete DirectX 10 ma tenete conto che molti componenti molto di questo schema che vedete è sostanzialmente identico anche in DirectX 11 DirectX 12 è quasi un mondo a parte essendo il relativo di Vulcan di cui non ho in realtà studiato per poter presentare quella parte siccome già DirectX 10 per quanto primitivo è un componente molto grande quello che è contenuto effettivamente all'interno di DirectX qui nell'immagine è presente la pipeline di come DirectX disegna nello schermo tutta la parte che non so se si può vedere memory resource quindi texture 2D modelli 3D tutte le rappresentazioni per poter inviare questi cambiamenti sulla scheda grafica sono implementate qui dentro anche in realtà comunicare alla swap chain i cambiamenti nello schermo c'è un collegamento un po' particolare di cui la swap chain finisce per andare per DirectX 10 essendo l'unico componente che può dire alla scheda grafica aggiornami i cambiamenti su schermo anche gli shader e tutto il mondo degli shader sono implementati all'interno di questa runtime questo è l'unico componente che può parlare con l'effettivo render della scheda grafica DXGI non ha alcun accesso a questo componente questa parte qui parlando in tema dell'appunto UMD il driver implementato dai produttori video per presentare i cambiamenti su schermo disegnare un cubo e quelle cose del genere sono collegate con il resto del mondo di Windows in questo modo c'è una struttura interna chiamata THUNX che contiene una lista di funzionalità che la nostra scheda grafica implementa esempio mi può venire in mente come funzionalità texture con formati un po' più particolari esempio compressati con i formati DDS questa struttura viene prima richiesta al componente principale di DXGI di cui va a chiedere al kernel quale effettiva massima versione di queste funzionalità possiamo supportare e viene passata attraverso strutture interne ad IRTX di cui la andrà a passare al driver video per poter consentire al driver video di poter renderizzare i cambiamenti questa struttura è stata concepita da Microsoft per poter evitare tutto questo passaggio di informazioni o anche caricare queste informazioni dal kernel semplicemente è una specie di bypass in questo modo DirectX va a parlare con e l'UMD va a parlare con il resto del mondo ovviamente ho detto prima DXGI parla un po' per inviare questi thanks anche DirectX 10 ma nell'effettivo quindi chi è il responsabile che gestisce il driver della scheda grafica in user land per tutte le cose all'interno della scheda grafica questo è un flusso di esempio diciamo un flusso di cui accuratamente un po' approssimato DirectX gestisce poi tutto quanto in realtà la gestione dell'UMD è condivisa tra DirectX 10 quindi le runtime di DirectX ed XGI partiamo con la base un gioco richiede un dispositivo di DirectX per poter iniziare a scrivere comandi alla scheda grafica è il primo step DirectX 10 successivamente inizia un po' a chiedersi per quale scheda grafica abbiamo bisogno di un dispositivo siccome abbiamo detto prima si supporta più schede grafiche si potrebbe avere una casistica dove abbiamo più driver video caricati per diverse schede grafiche quindi determinato per quale scheda grafica vogliamo presentare i cambiamenti e disegnare su schermo di XGI ci ritorna le informazioni a riguardo ed essendo una cosa specifica della scheda grafica la runtime di DirectX va a chiedere alla scheda grafica di caricare il suo corrispettivo driver in user mode ora di XGI non è che inizializza tutto quanto da l'ok per utilizzare questo driver ci dà solamente una reference per poter poi caricarlo in seguito quando DirectX è pronto per arrivare a questo passaggio infatti viene caricato solitamente la DLL quindi la libreria dinamica un componente da DXGI ma non viene initalizzato non gli viene dato l'ok DXGI ritorna questa reference alle runtime di DirectX 10 in cui procedendo un'altra serie di funzionalità si prepara per poter dire effettivamente all'OMD di partire e collegarsi effettivamente con la scheda grafica e essere pronto a ricevere comandi per poter disegnare quello che vogliamo una volta che anche l'OMD dall'ok e tutti i collegamenti sono stati effettuati tra i vari componenti le runtime di DirectX ritornano finalmente il dispositivo e la nostra applicazione è pronta per poter disegnare su schermo una adesso siccome siamo in tema e so che c'è un numero elevato di persone che utilizzano Linux qua ho pensato di aggiungere anche una parte spiegando un po' Wine perché questa implementazione che ho fatto io differisce non si poteva andare a copiare il codice funzionante da Wine no perché la parte di gestione delle schede grafiche schede monitor e tutto quanto su Wine passa direttamente all'API del sistema di Linux o comunque quelle di X11 quindi non abbiamo un vero collegamento con tutta la parte del kernel come è giusto che sia siccome Wine non si occupa di questo mentre la parte della runtime esegue una traduzione da DirectX a OpenGL o Vulkan nelle ultimissime versioni di Wine però siccome Wine è nato come un componente è nato come un layer di emulazione molti di questi concetti tra cui il metodo per poter far comunicare la sua re-implementazione di DirectX con il resto delle applicazioni è implementato con il Dbus com che abbiamo citato prima quindi e anche abbiamo la possibilità di utilizzarlo correttamente con Windows anche Wine utilizza delle strutture interne per comunicare tra i loro tra i loro componenti fortunatamente documentate al contrario di Windows il che però potrebbe aprire spazi nell'utilizzare magari una specie di interoperabilità magari usare un componente di Windows re-implementato sopra DXGI di Wine o viceversa ci potrebbero aprire siccome Wine ha seguito il Dbus di Windows opportunità per poter fare una cosa del genere ecco ora mi avevo dovevo originalmente preparare una live demo dove facevo vedere un qualche cosa con il logo dell'ESC che girava su schermo una roba base ma purtroppo come la maledizione dell'anno scorso non sono riuscito neanche quest'anno a prepararmi una demo quindi dovete un po' fidarvi sulla parola su quello che vi lascio in questo talk ovviamente con questo siamo arrivati quasi alla fine no perché in realtà questo questo campo è totalmente aperto è un'area libera tutte queste strutture interne di Windows sono totalmente non documentate quelle che vedete nelle immagini rappresentano dei pezzettini di componenti che ho documentato solo DXGI ha più di 20 cose non documentate immaginatevi DirectX 10 DirectX 11 penso che qui si è quasi aperto il val si è quasi aperto siamo alla punta dell'iceberg qui c'è ancora un intero mondo da dover studiare questo è un po' quello che mi sono occupato in queste ultime settimane siamo arrivati alla fine ci terrei a ringraziare ovviamente l'ESC per avermi invitato anche quest'anno e gli amici del Discord di ReactOS e Longhorn dove mi hanno un po' aiutato soprattutto nella parte del kernel ovviamente quello che ho fatto vedere ad esempio il codice è completamente open source adesso la live la repository è già su GitHub e potete andare sul link visto nelle slide e visionare un po' come il componente di DXGI è implementato e farvi un po' un'idea di come Windows la parte userland comunica effettivamente con la parte grafica del kernel e con questo penso di essere veramente arrivato alla fine grazie grazie qualcuno ha delle domande? una domanda prima Davide scusa poi c'è anche Pietro sì ti volevo chiedere se tu hai usato per vedere un attimo quali chiamate erano compatibili ad esempio come si comportasse GD GD DX G G G G G G Sì se hai usato GraphFilter per caricare i grafi di ogni componente praticamente GraphFilter è uno strumento di Microsoft che ti permette di caricare le DLL e di vederle in una sorta di grafo che tu puoi comporre input e output e poi anche debuggare il traffico che c'è all'interno di ogni singolo nodo creandoti una pipeline con ad esempio l'encoding e tutte le funzionalità di software che tu hai installato nella scheda V nel tuo computer e lì crearti una pipeline in un certo senso ti puoi ricostruire un player ti puoi ricostruire anche VLC utilizzando semplicemente questi filtri e se erano dei metodi che hai usato per capire come funzionava la pipeline o se hai fatto tutto quanto via codice non conoscevo questo strumento grazie per avermelo citato ho fatto completamente a mano rispettando le pratiche di Clearroom ovvero mi sono messo di mano proprio da zero con debugger e un'analisi statico tipo Ghidra mi sono studiato i comportamenti e funzionamenti di DXGI riportati da qualche parte l'intero funzionamento della pipeline e poi reimplementato per assicurarmi di non toccare o comunque ispirarmi al codice di Microsoft infatti la struttura della mia repository è diversa però si è stato fatto tutto a mano con a suor di bestemmie con Ida Pro e debugger DX64 DBG su una macchina virtuale Windows 7 siccome già da Windows 7 a Windows 10 DXGI cambia quindi mi sono concentrato su Windows 7 però si è tutto a mano magari magari soprattutto documentare le strutture interne sarebbe di grande aiuto vedendo tutto questo mi dà l'idea che il layer di DirectX 10 sia il classico tappeto sotto cui nascondi la polvere della complessità del software dal lato di chi deve utilizzarlo per creare un videogioco allora la domanda è vedendo questi layer di complessità e tutto il lavoro che hai dovuto fare per scoprire come funzionano in che contesto questo diventa rilevante questo non è qualche cosa che uno sviluppatore di videogiochi su Windows per esempio vede o è più che altro qualcosa che deve conoscere chi lavora in emulazione per esempio in Wine e lavora su quel layer allora uno sviluppatore di videogiochi non ha bisogno di conoscere nulla dell'interno di DirectX siccome DirectX espone già più o meno tutto per fare tutto una cosa del genere può essere importante prima di tutto a chi sviluppa driver grafici di Windows di cui in realtà credo che Microsoft passi sotto banco delle documentazioni in più ai vari produttori di schede grafiche può essere anche utile più che a Wine siccome non si parla di strutture siccome qua si parla anche del livello del kernel più a un progetto come React OS dove potrebbe giovare di accelerazione tridimensionale da 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 x10 superiore siccome attualmente sono fermi ancora a DirectX 9 e i layer di Wine con OpenGL 1 in software render sono molto indietro su parte di DirectX superiori prego ci sono altre domande non ne vedo quindi un grande grazie a Cristiana Arbes per aver condiviso la tua conoscenza la tua esperienza 1 Samencamp da Mila e 23 attivano attività attività